Buon da mangiare? Io non c'ho fame, quello è problema Non è fame? Ho mangiato l'hamburbertura del fame Mangiamo poco allora, dai Stupendo Ti è pronta a questa esperienza americana? Sì Ci portano sempre l'acqua, grazie Non la fai, no? Vabbè, la tappu vuota Vabbè, però è buona comunque No, perché in Italia non è così? No, vi ordinate sempre la bottiglia Non lo sapevo Poi è arrivato il pane Io non ce l'ho mai Tadadadà Pane e burro Cosa sarebbe la vita senza pane e burro? Stavamo spuntando un dolcolo Quindi non mangio più burro Ho notato che qui sono gentilissimi Con una voce squillante Molto diversi da noi Perché siamo molto Che c'è? Niente, appena visto una cheesecake Che è appena passata O tu guardi i dolci Cosa sta arrivando? Inzuppare il gambero in questa salsina rossa Vai, assaggi il pezzetto Questa è carne magra Ti piace? E il 60% degli abitanti Sono mormoni di religione E il 50% degli abitanti